E andiamo dunque con la seconda bustina ragazzi ovviamente fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questa nuovissima collezione Guardate ragazzi che bello il Napoli con lo stemma sul petto Poi abbiamo Marco Sportiello, Rafia del Lecce, Francesco Caputo dell'Empoli E poi abbiamo Elite Deck Churria, grafica veramente spettacolare questa dell'Elite Deck Poi la squadra del Venezia e un'altra figurina del Cittadella